Hola io sono Marcus Groen e signore e signori bentornati in una nuova puntata della Revolution Shure L'ultima puntata siamo riusciti a fare le torrette Torrette base, ma non per questo Poco strafighe, perché sono davvero strafighe, lanciano soltanto i bloccozzi Se volete vedere tutta la moda, vedete vedere la mia recezione Ma in Survivor è davvero una figata, perché vedi sti cosi che sparano ai mob che vogliono ucciderti Ed è wow 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 Tra l'altro volevo vedere che cosa serve per fare quello di Tier 2 Ma come potete vedere li mortacci, stracci, vola in botto, de roba Oh mio dio, davvero Plaft Ora, ho trovato degli Industrial Amp Che sono quelli lì della Immersive Engineer Ricordate? Molto bene E vi ricordate che ho spaccato un villaggio e ho ottenuto gli irrigatori? Bene, io quando pioveva ho messo queste tank che si sono riempite Ok, adesso si sono buggate Però giuro che sono piene, giuro Giuro, te lo dice anche sotto Perfetto Qui non c'è un metodo di duplicazione, è l'acqua vanilla Quindi Quando finirà l'acqua, questa irrigazio scenderà Ma chi se ne frega ragazzi Cioè abbiamo 10.000 Speriamo di cogliere qualche cosa, cioè di buono Tipo questa ananas E questi semi Che non so che sono Però va bene lo stesso Dunque Tutta la nostra attenzione era riportata non a farmare Non a fare chissà cosa Ma A conservare il cibo Perché in questo pack Muori di fame facile facile E soprattutto Non c'hai Cioè ti Ti marciscono le cose Ti marciscono Se io prendo questa pera Dopo un po' Vedete? È l'1% Già marcia all'1% Fantastico Ok, ti sta facendo pure notte Quindi Che culo Dunque, 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 dunque Quello che il nostro amico vuole È il seed analyzer Che probabilmente non mi vede Perché non l'ho fatto io Purtroppo Questo è un grande inconveniente Quando rubi le cose Dai villageri Oppela Oppela Qui ci chiudiamo dentro Succede questo Succede questo Quindi dobbiamo farlo noi Vediamo un po' Il Seed analyzer Che vuole Sembra strafacile Quindi lo facciamo subitissimamente Il legno Ce lo abbiamo Ok Quindi devono Ci dobbiamo fare Delle slab Non so perché non mi funziona lo shift Interessante E mi servirebbe Della sand Sand che io ho avuto In tanta quantità St E quindi Poscevo fare Non mi ricordo Se era un pannello O era Un blocco di sand Vediamo un bag È un glass panel Quindi ho fatto bene A mettercene sei Poi Mentre facciamo di qua Uh avete sentito Sta sparando Stuk tung Stuk tung Stuk tung Però non gli basta La cobblestone Al povero picciolino Picciolino in Canada Mentre 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 Qui sta cuocquendo Io volevo andare a vedere con voi Le altre Quest Del tipo Allora Cooking for blockade Come si Ma si chiama così davvero? Cooking Eccolo qua Show Food You can make With the think You have an inventory Bellissimo E basta mettere Un Un libro Allora prendiamo questo E mettiamo il libro dentro Poi Con questo facciamo i pannelli State calmi ragazzi Dai Seed E con questo Vedi che non me lo mette Dai dimmi che si fa così Oh Sei contento? Adesso ne ho due Brutto babbeoide Eccolo qua Semi Già ce l'abbiamo Non posso prendere la roba Perché sono Un ciccione Il bello che sta piovendo E hanno finito i colpi Le torrette Mi dispiace tanto Vediamo un po' come funziona Questo Uh E posso prenderlo? No? Devo farlo io? Sì Non posso Sort by saturation Ok Questo qui dà più saturazione Sì ma Dai Se me lo facevi fare era meglio No? Va bene Contento tu Ok l'abbiamo fatto C'abbiamo una reward bag E attenzione Cooking oven Fridge e silk Daie 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 Andiamo a vedere La reward bag Basic Signori Crociate le due Speriamo qualcosa di utile Tipo Che ne so Munizioni L'ammo box Sarebbe fantastico Ma che palle Ma che c'è faccio Con tutte queste pozioni Dai Basta È la settantesima volta E me dai Comunque si stanno accumulando Dei Degli stronzi Qua fuori Cioè basta Raga Dai Ragazzi Non c'è ragazzi Dai Vabbè io butto Ste pozioni qua dentro Che merda Splash Nausea Poison Però gli fanno Non gli fanno danno Quelle Slowness Vado a dormire Sono pronto Regà Sono pronto No 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 Non ero pronto Non ero pronto Non ero pronto Perché corri così tanto Perché corri così tanto Mortacci tua Sei riuscito a passare Ragazzi fanno schifo Sono Ti ho un forte Ah io No Ma stiamo scherzando Ah io No dai No 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 Non va bene così Un altro Federal Falling Io me lo curo Posso curarmelo No Fermo Pensavo che si sommasse Mi sono rimasto molto malissimissimo Vabbè Mi faccio Oddio Dovrei avere altre pere Mamma mia Che casino Che c'è fuori casa Le pere Non basta farle vedere Siete morti? Però non cura Non cura poco Questo Paura? Porca puttana No 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 Perché c'hanno Quell'effetto strano? Porca puttana No 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 Aiuto 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 raga Stanno per morire Dai Ma ce n'era uno Che li curava Lui? No c'era il ragno curatore Perché il ragno cura? Perché il ragno cura gli zombie? Affiuta una mignotta Affiuta una mignotta Carica 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 No ha finito le cose Ho finito la munizione Lo so Aiuto Perché pure lui Cura le cose? Aiuiuiuiui Dai Si sono impallati Non so perché Ma quanto sono forti Mori? Uh è morto Ma Perché non prendono fuoco? Perché non prendono fuoco? Ma gli è rimasto un braccio solo Ma mori Quanti punti ferita c'ha? Cento Ok è morto Mamma 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 Mau Ma voi siete impazziti proprio Voi siete totalmente impazziti Ragazzi girare di giorno Cioè di notte in sto posto è incredibilmente difficile Davvero 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 tanto Mamma Paura 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 Guarda mi hanno sfondato l'orto Sti figli di una cagna Ma guarda Mi hanno rotto pure le torce Ma siete dei pezzi di merda eh Siete dei pezzissimi di merda Davvero Ma io non ho parole Comunque Va bene D'accordo Ehm Che ci dà? Il tool rack Vabbè Io voglio fare il fridage Fridage Eccolo qua Ma dai ma è facilissimo Fantastico Ma avessi Avete lo saputo prima L'avrei fatto prima Ecco qua Prendiamo un po' di farro Andiamo a prendere una chest Qualsiasis Tipo questa Io faccio così Qui ne ho lasciato uno Ma a questo punto no Vabbè dai Questa qui la tengo Che è abbastanza comoda Me ne faccio un'altra Il legno ce lo dovrei avere Anche se sta finendolo Eccolo qua Facciamo le nostre Amiche cieste Qui c'era dell'altra roba Che io mi sono complesso E' vero altre due Eh però Eh però Eh però Eh però Qui c'è una chest Ancora più buona Mangia che buono Mangia che buono La mettiamo qui Ok Quindi Facciamo una porta Ce ne fa tre Grazie Frigo Frigo Provide Containing ingredient To the site Credo Vediamo Facciamo così Il frigo Vediamo un po' Questa sta all'80% Ok Guarda che bello E' bellissimo 80% D'accordo Ci mettiamo anche altre cosine Mi è andato tutta male Ah il vineyard non va male Però ovviamente non lo posso vedere Devo cercare qualcosa Ah rotten Cerco Rotten Ecco qua Pane No questo qui no Poi di qua ci abbiamo La rotten flash ancora Di qua ci abbiamo Quel tomato L'apple E' andato male Niente E' andato male Quindi il mio poco cibo E' questo qui Va male questo Ah davvero No ma sta andando a male Vedi 81 Guarda 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 Non funziona Regà che cazzo serve il frigo Non serve Ha mentito Non serve per quello che diceva Vabbè facciamo il cooking oven Cooking Oven Eccolo qua Abbastanza facile pure lui Però vuole Davvero vuole il black glass Però forse l'insac ce l'ho Le ho cercate Nella puntata precedente No le ho cercate in questa Quindi già le ho perse Pensate quanto so bravo Eccolo qua Poi ci serve altro vetro Che due bolle Come faccio a fare questo? Che non lo so fare Con otto pezzi Otto pezzi di votro E una furnace Una furnace Che faremo Con dell'amica cobblestone Amica cobblestone Mi dispiace Ma ho finito Il piccone Ha un pezzo Ah ma qui c'è una furnace Ma qui c'è Buono Buono raga Cazzo ma io l'ho messa a cuocere tutte Sono proprio un coglionazzo Guarda che panna male Guarda 2% Oh no Shit 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 Cobblestone Eccola qua Facciamo la nostra furnace Qui hai fatto Corcazzo Sei proprio lenta Quanto la morte Facciamo Così Per velocizzare le operazioni Ma quasi quasi un po' di vetro Me lo faccio In plus Dunque 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 Era Fornace Iron E roba nera Dai Dai Intanto vediamo qual è l'altro E' il sink 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 Multiblock C Uh aspetta Ma forse si uniscono Ah cazzo Come faccio questo Ah ok Iron E il martellozzo Il martellozzo Il mio amico martello Dai Hammer Guarda Dai ce l'avevo Eccolo qui Perfetto Allora Facciamo così Facciamo tre di queste Uno Due E tre Perfettolo E facciamo Il secchiellolo Di acquola Andiamo a prenderne un po' di qua Ma dai Noi siamo messi bene Stiamo per fare il frigo Qui ha ghiacciato Ma Ah regà Basta venire l'inverno E' vero perché ci stanno le stagioni Vedete Prima non c'era sta neve Che figata Questo pacchetto è spettacolare Da sto punto di vista Ecco qua Ed ecco qua Allora Facciamo Il glass nero Una fornace Ferro tutto intorno E abbiamo fatto La cucina Agash Ok E infine Era il Sink Che cazzo sarà il Sink Sinceramente non ne ho la più pallida idea Però vuole il legno Vero Non il legno finto Il legno vero Quindi andiamo a prendere il legno Di qua Ci metterà un pochino perché c'è la tricapitator Però Mi dice che sono Avvelenato Ma da cosa? Da cosa sono stato avvelenato ragazzi? Che strano Forse dormo Dormo poco? Bop Guarda Guarda come mi scende la vaita Che Cosa Stranissima Comunque Dovremmo esserci riusciti Perché dovrebbe essere Così Ah no 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 Di acqua giusto Così E Sopra l'iron Eccolo Eccolo Un me la ritardo al secchiello Provide Water to Recipe Ok Come cazzo vi unite? Ma che figata Ma che è sta storia? Bellissimo Forse vanno tipo attaccate 84 Qui continuano a scendere Forse vanno attaccate Non lo so Non lo so Non lo so Cooking table Ragazzi lo scopriremo nella prossima puntata Qui stiamo proprio Dobbiamo fare Le cose basi Non è che possiamo andare A fare farm di animali No Dobbiamo prima iniziare Imparare a cucinare Oddio Sei addormentato dalla stanchezza Sto povero cristiano Ma mi dispiace tanto Quindi ci vediamo Alla prossima puntata Bella per voi